In compagnia del Rettore Aurelio Dommasetti, oggi i 40 anni di Aurelio Musi qui all'Unisa, un atto importante per un personaggio importante. Ha fatto molto bene il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali della Comunicazione di celebrare, perché questa è l'espressione da utilizzare, l'impegno accademico del professore Musi sui 40 anni di attività. È difficile anche condensare in poche battute lo suo sconfinato curriculum, sia come docente universitario, come studioso, come ricercatore, sia come giornalista. E mi piace anche sottolineare il suo impegno per lo svolgimento di attività gestionali collegata alla vita della nostra Università. Preside di facoltà per lunghi anni, direttore del Dipartimento, impegnato in altre cariche istituzionali. Quindi un impegno a tutto cambio, a tutto tondo, come dice il titolo. E io credo che occasioni come queste servano anche al Rettore per manifestare la sua gratitudine a nome dell'Ateneo, nei confronti di un docente che si è distinto nella sua vita professionale e mi sia consentito anche dal punto di vista del suo tratto umano. A tempo pieno e a tutto campo, i 40 anni di Aurelio Musi qui all'Università dell'Istituto di Salerno, quali sono gli aspetti più importanti oggi? Vogliamo mettere in luce? Intanto sono 41 perché io insegno da 75 in questo Ateneo. Gli aspetti più importanti sono proprio nel titolo che Galasso ha suggerito per questa manifestazione. A tempo pieno perché mi sono impegnato in tutti questi anni nell'attività accademica e scientifica con risultati, devo dire, apprezzabili. Sono apprezzati sia nella comunità scientifica nazionale sia internazionale. E a tutto campo perché non sono solo un accademico, sono un giornalista, mi sono occupato dei problemi legati all'attualità. Continuo a scrivere ormai da oltre 30 anni sui quotidiani e periodici nazionali. e quindi questi sono gli aspetti più importanti di oggi.